tu preghi si prega per cercare un aiuto salve a tutti cari utenti di youtube dal vostro leandro conoscitore italiano ebbene oggi voglio parlarvi di un argomento piuttosto delicato un argomento forse che provocherà in voi un malcontento popolare un malcontento diffuso eppure non mi interessa voglio esprimermi voglio esprimere la mia opinione senza se senza ma e soprattutto non avendo problemi di sorta sono un chad che dite raga fatemi una bella foto sono un bello oggi no magari lo fossi se fossi bello me ne fai tutte ok allora raga le ghiacchiere come si dice nella regione lazio stanno a zero nel senso che a roma si dice no le ghiacchiere stanno a zero quando un argomento è un argomento che richiede poco tempo nell'essere trattato perché perché la preghiera che è uno strumento che viene utilizzato da un credente per si pensa si suppone mettersi in contatto in comunicazione con il care stinto o quella care stinta in realtà è il mezzo in realtà è uno strumento che viene utilizzato per cercare un aiuto per cercare un valido aiuto in particolare si cerca due tipi di aiuti si cercano e sono il primo aiuto nel sopportare o meglio nel superare la paura della morte ok una persona magari nella sua gioventù non ci pensano non ci pensa mai alla morte tanto sono giovane a me che mi frega a me la morte non mi arriverà mai no quindi dice tanto sti cazzi no mica mi arriva la morte a me sto giovane però poi quando si diventa anziano o anziana quella persona ricerca dio ricerca un'entità sovrannaturale che può essere che può essere alla che può essere buddha che può essere qualsiasi altro tipo di dio o di divinità e e questo è un primo fatto se non si ricerca un aiuto proprio nella preghiera perché magari una persona ha un caro che sta per morire no per esempio un padre che sta per morire una madre che sta per morire un fratello una sorella uno zio un cugino un nono una nonna no io stesso quando ho saputo che mio nonno stava per morire e che probabilmente non ce l'avrebbe fatta come effettivamente è stato ho riposto le mie speranze in dio io ho detto per ti prego dio ti prego non me lo togliere dal mondo fai sì che mio nonno non se ne vada via ok tienilo su questo mondo tienimelo per cortesia ti prego e quindi ho recitato ogni sera una preghiera sperando che dio poi ha messo il concesso in qual mio speravo che esisteva un dio mi andava ad aiutare va bene ma io sono stato opportunista perché perché ho cercato dio proprio nel momento in cui avevo bisogno di lui cioè io ho detto ti prego dio aiutami ti prego non togliere dal mondo il mio amato nonno paterno ti prego non me lo togliere da questa vita non me lo togliere da questo pianeta e quindi ho cercato ripeto la presenza divina la presenza soprannaturale bene io sono stato un po' paraculo perché paraculo perché non ho mai pregato tanto o comunque io ogni sera si è vero che prima di dormire recito un eterno riposo però da quando è morto mio nonno perché prima io non ho mai pregato cioè raramente prego va bene qui diciamo che sono uno di quelli paraculi se vogliamo no che comunque in maniera paraculata va a chiedere a dio un aiuto ok e ha chiesto aiuto per mio nonno però poi tra virgolette non ho avuto l'aiuto che per l'appunto volevo ricevere quindi praticamente dio nel mio caso forse ammesso e concesso che esista un dio non mi ha ascoltato ecco l'effetto brutto che la religione ha pone è che se una persona magari riceve un brutto grave e magari ripone speranza ripone fiducia in dio perde la speranza e perde la fede cioè diciamo io credo tanto in dio ti prego dio aiutami dammi ti prego non me la uccidere non uccidere mia madre non uccidere mio padre non uccidere mio zio mio nonno preghi tanto poi però purtroppo muore riponi speranza in lui in dio e tra virgolette non riesce a tenerti in vita il parente il caro istinto il caro o la cara e quindi una persona può perdere la fede io non credo più in dio molto spesso accade questo c'è anche un altro caso in cui un uomo una donna magari crede molto in dio ma prega e il caro il caro poi muore con la cara muore però poi non è che perde la fede ma rimane molto fedele a dio oppure addirittura la sua fede diventa ancora più forte ancora più incisiva va bene questo è un altro caso questa è un'altra ipotesi ora io non voglio essere io non voglio fare l'uccello del malagurio però io sono un uomo perché ormai sono un uomo ragazzi io a febbraio spegnerò il 36 candere mi sto avviando per i 40 io sono un uomo pane pane vino al vino cioè diretto quanto basta e vi devo dire purtroppo che si cerca a dio si cerca la preghiera si fa la preghiera per essere aiutati a superare la porra della morte ma soprattutto perché magari si vuole sperare che magari nonno nonna zio zia cugino cugina fratello sorella mamma papà riescano a vivere e magari purtroppo si trovano in fin di vita ecco quindi che il mio ragionamento oggi è molto semplice siamo paraculi noi utilizziamo noi esseri umani utilizziamo lo strumento della preghiera ma al tempo stesso lo strumento della religione per fare gli affaracci nostri per paracularci per pararci il culetto per pararci il lato b vuoi o non vuoi siamo attaccati ad una chiamiamola vita che non abbiamo richiesto di ricevere ma al tempo stesso siamo anche molto più io mi permetto di dirlo vogliosi e opportunisti nel ricercare dio noi siamo talmente opportunisti che ci mettiamo in condizione di dire ti prego aiutami quando magari dio non lo preghiamo mai però in bisogno in funzione di bisogno io ho bisogno di dio perché magari mi sta per morire un parente lo chiamo lo cerco lo prego ed ecco che magari spero che mi aiuta poi però in teoria non mi dovrei lamentare se dio non ha seconda le mie richieste perché ecco il chat ecco il chat ecco il chat ecco il chat a date che petto è che petto tutto depilato io non ho peli sul petto perché in teoria regà non non dovrebbe non dovremmo diciamo così essere così arrabbiati perché noi non ci siamo mai interessati di dio a dio se no quando abbiamo bisogno di lui quindi magari ci sta per morire un nono una nonna un parente un zio un cugino un fratello una sorella e che di seguito oppure cerchiamo dio perché abbiamo bisogno di lui no ho bisogno di te dio ti prego fammi vivere il più a lungo possibile allora si fanno le preghiere di qua e di là per i rimparapam si chiama opportunismo religioso io sono sincero non lo sopporto non lo sopporterò mai ma non posso essere falso e vi posso garantire che anche io ho fatto e ho applicato l'opportunismo religioso il paraculismo diffuso dicevo una volta mi ricordo all'elementare no? io andavo all'elementare e avevo tanti compagni e compagnuccia no? e c'era mia maestra la maestra Tina che ancora è viva bene è anzianissimo ovviamente ok raga la maestra Tina che insegnava matematica ma anche geografia cioè la mia maestra la maestra Tina insegnava geografia e matematica elementari bene allora sapete che è successo no? che un giorno una mia compagna di classe non venne manco da scuola in pratica non venne no? non si presentò allora sapete che disse la maestra Tina io l'adoravo era una maestra divertentissima ancora viva per fortuna però è anzianissima che c'era un sacco di anni c'era forse 90 anni ok? era già anziana quando ero piccolo io figuriamoci no? allora sapete che è successo? che questa bambina non venne a scuola allora sapete che disse la maestra Tina? dice il nome no? non è venuta perché ha la paraculita acuta caro lealtro ha la paraculita acuta eh? la paraculita acuta praticamente sarebbe il paraculo no? è una paracula no? è una paracula no? è una paracula ok allora io oggi ricordando questo vi dico siamo paraculi siamo tutti paraculi e siamo noi stessi affetti da piena paraculite acuta va bene? quindi quando vi dicono no? ma... oh sei un paraculo? ditegli sì c'ho la paraculita acuta ok? ecco questo è un modo per farvi divertire perché io vi sto raccontando pane pane viene al vino quello che è la realtà dei fatti e soprattutto quello che è l'attuale il presente e il contemporaneo sperando di avervi fatto cosa gradita vi ringrazio vi chiedo di iscrivervi al canale di mettere questo video a tutti i credenti fatelo vedere ad un prete intanto non avete prete perché siete giovani magari fatelo però arrivare a un predato a un prete a una persona che sta magari su facebook dico io c'ho il prete su facebook no? mo quasi quasi gli amanno sto video gli amanno incollateglielo regà dateglielo dice prete don Pasquale don Vito don Mauro don Sergio don Leandro don Aleandro le posso mandare un video? certo certo gli mando un video di questo coglione che si chiama Leandro che si fa chiamare il conoscito l'italiano che poi non è un conoscito è un coglione italiano va bene ah piccolo aneddoto poche sere fa entro su MIGOL a un certo punto entro sapete che succede no? se appena entro questo coglione tutto nero con lo schermo mi scrive il coglione italiano sei ridicolo il tuo canale fa schifo il tuo canale è da vomito allora io ho risposto beh sarà pure da vomito però perlomeno io le cose le dico e non è un canale di rutti e di scoreggio e di scoreggio va bene quindi sarà pure da vomito ma intanto non scoreggio non rutto non rutto va bene quindi pensala come vuoi alla fine poi l'ho schippato io va bene quindi significa che qualcuno mi riconosce suo amico mi riconosco quasi tutti e non sopporta il mio canale ci sta perché non è che io non pretendo che il canale mio venga visto da tutti da chiunque mi piace quello che dice no no regà no no va bene così mi sta bene che non vi faccio il canale però perlomeno io perlomeno non scoreggio non rutto sì qualche volta quando faccio la recensione di qualche birra magari mi vedo a sputare ma è una cosa simpatica divertente ecoliardica ma non è un canale trash questo regà va bene perché io vi offro la riflessione con la comicità la comicità con la riflessione e chi è che vi fa tutto questo chi è che vi fa le birre vi fa capire la vita il mondo la religione la morte la vita e tutto questo beh da per voi regà un saluto caro D'Aleandro conosciuto l'italiano un bel semplice sarebbe bene regà vai con un bel bu bella per voi grazie a tutti